Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi parleremo di un fatto che ha spopolato davvero sul web e riguarda il calciomercato del Napoli Secondo alcune fonti infatti l'acquisto Lozano-Napoli sembra essere ormai fatto e l'accordo totalmente raggiunto Al club olandese PSVM Doven andranno una bellezza di 40 milioni di euro per un calciatore davvero forte di 24 anni Irving Lozano che ha fatto una stagione davvero incredibile quest'anno con ben 40 gol e 23 assist Per me è un grandissimo acquisto e un ottimo inizio del calciomercato di giugno Che sarà sicuramente un calciomercato migliore di quello degli scorsi anni Anche perché c'è in gioco un'intera squadra e Carlo Ancelotti che se non ben soddisfato Tenendo conto delle capacità del Napoli potrebbe addirittura andare via Oltre a Lozano però il Napoli in attacco vuole un altro forte attaccante Non sto parlando di Mauro Icardi Non sto parlando nemmeno di Karim Benzema Né tantomeno di Cavani E nemmeno di Iguain Che battuta squallida Sto parlando invece di Diego Costa Attaccante che gioca attualmente nell'Atletico di Madrid Sarebbe anche un buon colpo anche per FIFA 19 Perché lui è 85 Sarebbe un colpo, un ottimo colpo sia nella realtà sia per il Napoli virtuale Ovviamente per Diego Costa non c'è ancora nulla di concreto Però mi sembra che un interesse del Napoli ci sia Quindi andrò a verificare nei prossimi giorni Se si tratta dell'ennesima bufala di calciomercato Intanto però iscrivetevi al canale Mettete un like al video E noi ci vediamo al prossimo E noi ci vediamo